il cuore è simbolicamente il centro spirituale ed emotivo di te stesso è ciò che realmente tu pensi di dio di te stesso e degli altri non sia turbato il vostro cuore ecco che cosa può trasformare la tua vita iniziare con determinazione e una certa caparbietà a non far scendere nel tuo cuore pensieri tristi non affollare più la tua visione di te e della vita di pensieri oscuri meschini pieni di dubbi e paure e come si fa a non aver paura a mantenere in tutte le occasioni un cuore sorridente credete in dio e credete in me primo credere è sconfiggere la paura la fede è uno spazza paura è il solvente più potente per sciogliere la tristezza prendi in mano l'idea che tu hai di dio come lo immagini come lo senti come gli parli da come tu consideri dio nella tua vita dipende tutto il tuo atteggiamento interiore ed esteriore dipende il rapporto che hai con te stesso e con gli altri prova a decidere in te stesso che da oggi ti vuoi arrendere al suo amore che da oggi sarà il tuo desiderio inamovibile pensare a dio come al dolce signore della tua vita che ti ama all'infinito e desidera solo la tua felicità che desidera vederti in pace e sereno come al dio dell'amore che non ti giudica mai mai ti condanna e non vuole insegnare l'amore con la minaccia né a vivere nella verità con il ricatto dell'inferno prova a fare la stessa cosa con l'idea cuore di te stesso in nome di dio prova a cambiare l'idea che hai di te stesso abbi fede che sei un bellissimo figlio di dio che a dio piaci tantissimo che lui è innamorato di te comincia a pensare che tu non sei un errore uno sgarbo alla vita credi a questo con fede inamovibile combatti con decisione fermissima ogni pensiero che sarà in disarmonia con questo qualsiasi cosa accada anche non felice e non facile anche se per qualche minuto è inevitabile un po' di preoccupazione o tristezza appena puoi ritorna a questo pensiero di dio e di te credi fermamente senza discussioni e dubbi che è così per mantenere forte e vitale questa idea cuore di dio è utilissimo leggere ed ascoltare la parola di dio il vangelo di gesù opponi questa fede alle alluvioni di pensieri tristi di certi momenti pensieri di solitudine di voglia di sparire di far sparire gli altri pensieri di incomprensione non lasciare che la sorgente dei tuoi pensieri la fonte vitale della tua energia il tuo cuore appunto trascorra molto tempo immerso in pensieri tristi svogliati di rancore e paura altrimenti lentamente soffocherà perderà slancio ed entusiasmo e annegherà nella tristezza secondo qualsiasi cosa accada nella tua vita gioiosa o triste guardala alla luce del fatto che siamo in viaggio in viaggio verso casa gesù ci ha preceduti e secondo le sue parole ci sta preparando un posto tutta la nostra vita è una preparazione una specie di trampolino verso il cielo gesù ci parla con semplicità e assoluta naturalezza della casa del padre di una realtà eterna meravigliosa quanto certa guarda tutto alla luce di questa realtà gesù ci sta preparando allo splendore della sua casa poi verrà a prenderci e ci porterà dove lui è alla luce di questa luce tutto il vissuto terreno è più prezioso di quello che abbiamo sempre immaginato perché ogni secondo è una strada d'amore dall'altra parte è molto più relativo di ciò che abbiamo immaginato perché ogni realtà e bene terrestre sono veramente poca cosa rispetto all'eternità terzo la strada di questo viaggio le indicazioni la forza per questo viaggio dove si attinge gesù è lui stesso a indicarsi come via verità e vita gesù stesso è la strada l'indicazione sacra per percorrerla la vitalità la forza per non fermarsi anzi in questo vangelo gesù ci dice una cosa che fa venire i prividi chi vede me vede il padre io vivo nel padre il padre vive in me abita in me fermati un secondo e prova ad inchinarti a questa rivelazione prova a onorare questa verità è impossibile spiegare queste parole ci si inchina a tanta misteriosa bellezza e si lascia che il cuore se ne riempia quarto con la nuova visione che hai di dio di te e degli altri ora come puoi con molto meno orgoglio e vanità senza strattonamenti emotivi dovuti all'affaticamento per tensione di prestazione lavora datti da fare non perdere un secondo è prezioso non poltrire non tirarti indietro non giustificare la tua pigrizia muovi il tuo essere verso gli altri verso chi ha bisogno fai la tua parte gesù garantisce che così operando gli uomini faranno cose più grandi di quelle che gesù ha potuto fare sulla terra perché saranno accompagnate e guidate e sostenute da gesù stesso in persona grazie a tutti grazie a tutti